ok ragazzi eccoci ancora qui io sono sempre paolo in copia con me c'è ancora leonardo ciao a tutti la riprova che doni è un programma che merita di essere acquistato tra poco vedremo cosa succede se una volta che ci colleghiamo a un sito di cinematografia in questo caso avvieremo una ricerca di un film vedremo se ci dà la possibilità di poterlo scaricare e una volta avviato download qualora dovesse uscire un messaggio particolare come dovremmo comportarci pertanto direi che ci conviene aprire il nostro doc safari 10 di 14 e attivare il nostro safari scrivania vuoto gruppo vediamo che si apra safari senza titolo finestra barra strumento eccolo qua command l connetti all'indirizzo e andremo a digitare il sito di cb 0 1 cb 0 1 1 linea verticale film gratis hd streaming download alta definizione contenuto web interagiamo con l'area link immagine cb 0 1 film gratis streaming download hd e con vo command j andiamo avanti fino a raggiungere il campo dove andremo a digitare il titolo del nostro film film hd streaming pulsante a film per genere film per anno film per host campo di testo modificabile eccolo qua il film che cercheremo è le nostre anime di note che è un film recentissimo uscito lo scorso mese di settembre presentato al festival del cinema di venezia le nuova linea nostre 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 anime 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 di di notte no nut e abbiamo la ricerca invio safari occupato campo di testo modificabile vuoto boh command h livello intestazione tre tre elementi l'indirizzo ufficiale è visitato link hd dbs le nostre anime di notte hd 2017 eccolo qua questo è il film che ci interessa da questo punto in poi leonardo guidaci tu boh spazio per selezionare il film safari occupato aspettiamo che carichi qualsiasi secondo link immagine ok adesso boh command h per due volte livello intestazione tre tre elementi l'indirizzo ufficiale è visitato livello intestazione 1 le nostre anime di notte hd 2017 eccolo qua e se ci spostiamo con voo destra compariranno una serie di server a me quello che ci interessa è l'open load 29 settembre 2010 link top 4k link side link se non vedi drammatico durata 100 all una pic link più info streaming link hack video link back in link flash link no video visitato link open load ok no spazio safari occupato premi link immagine open load ctrl ctrl shift d quindi vi invieremo il link solita solito al programma il famoso comando rapido per le stesse ok dunie 3 dunie finestra tabella è comparsa la solita tabella quindi interagiamo normalmente in tabella immagine di anteprima interagisci per accedere al menu colonna 1 riga 1 un elemento download 8894 c3 t9 sao finito per favore usa l'estrazione guidata dall'utente colonna 2 riga 1 un elemento segnala un problema colonna 3 riga 1 un elemento stop colonna 4 riga 1 un elemento selezionato immagine di anteprima interagisci per accedere al menu colonna 1 riga 1 ecco il messaggio che ci aspettavamo ci invita a usare l'estrazione guidata per cui questa è quella che il nostro amico leonardo chiama l'arma segreta di doni questo non vuol dire che il programma non è in grado di trovare il download ma tramite un motore di ricerca suo interno ha la possibilità di arrivare a ottenere il risultato che noi vogliamo per cui cosa dobbiamo fare adesso leo? spostiamoci verso sinistra immagine di anteprima interagisci per accedere al menu colonna 1 riga 1 qui c'è un errore di traduzione anziché interagisci noi dovremmo prevere vuol spazio per espandere questo menu menu e adesso scendiamo con freccia giù per andare a individuare il pustante apri nell'estrazione guidata riprova rimuovi apri nell'estrazione guidata dall'utente vuol spazio estrazione guidata dalle nostre anime di notte hd 2017 w e bdl 1080 pmp 4 linea verticale open load contenuto web ha caricato la pagina siamo sempre nel solito contenuto web adesso interagiamo link immagine open load e con il vol command j andiamo a accettarci il pulsante play video play video pulsante eccolo qua play video bo shift spazio finestra di dialogo finestra di dialogo le nostre anime di notte hd 2017 w e bdl 1080 pmp 4 linea verticale open load contenuto web estrazione guidata dall'utente finestra leo leo adesso interrompiamo interrompiamo l'interazione dal contenuto web siamo già fuori siamo già fuori andiamo verso sinistra barra strumenti un po' più a destra le nostre anime di notte hd vista tabella dei risultati tabella le più nostre più anime più di più notte più hd interagiamo con la tabella dei risultati in vista tabella dei risultati tabella le più nostre più anime più di più notte più hd più 2000 e andiamo a cercarci pulsante aggiungi aggiungi pulsante colonna 2 riga 4 nuovo spazio tabella immagine di anteprima interagisci per accedere al menu colonna 1 riga 1 un elemento download 8894 c 3 t 9 sao finito per favore usa l'estrazione guidata dall'utente colonna 2 riga 1 un elemento segnala un problema colonna 3 riga 1 un elemento stop colonna 4 riga 1 un elemento questo è il primo download che noi abbiamo aggiunto quindi interagiamo nella tabella e andiamo a posizionarsi posizionarsi nel secondo download quindi con il vostro spazio o devo interagire qua? si interagisce in tabella immagine di anteprima interagisci per accedere al menu download 8894 c 3 t 9 sao finito per favore usa l'estrazione guidata dall'utente colonna 3 questo è quello che dicevi prima questo si segnala un problema colonna 3 riga 1 sempre con il vostro presa a destra stop colonna 4 riga 1 immagine di anteprima interagisci per accedere al menu download le nostre anime di notte hd 2017 w e bdl 1080 pmp 4 linea verticale open load 5% scaricamento poi là è partito il download del nostro film avete visto quindi ci da la percentuale d'avanzamento del download e la velocità di scaricamento e tutto quanto benissimo adesso mettiamo in un attimo in pausa il download metti in pausa colonna 3 riga 2 premi riavvia colonna 3 riga 2 cella e se torniamo indietro sul primo download con un po' freccia sinistra download le nostre anime di notte immagine di anteprima interagisci per stop colonna 4 riga segnala un problema colonna 3 riga download 8894 c3 t9 sao finito per favore usa l'estrazione guidata per eliminare questo andiamo sul pulsante stop segnala un problema col stop colonna 4 riga 1 lo spazio nessuna riga selezionata la regla dovrebbe essere sparito vediamo riavvia colonna 3 riga 1 download le nostre anime immagine di anteprima infatti è sparito il download precedente dove ci invitava a usare l'estrazione guidata e resta all'interno della tabella il download corrente nostro per cui lo facciamo ripartire download le nostre anime riavvia colonna 3 riga 1 lo spazio premi metti in pausa colonna 3 riga 1 cella ecco download adesso procede chiaramente non siamo mica qui ad aspettare che finisca il download per cui interrompiamo un attimo il podcast e ci vedremo tra un po' eccoci qua siamo tornati e andiamo a controllare a che punto siamo arrivati con il nostro download download le nostre anime di notte hd 2017 w e bdl 1080 pmp 4 linea verticale open load 98% scaricamento 2,39 e siamo presto alla fine vediamo cosa succede al termine le nostre anime di notte hd 2017 w e bdl 1080 pmp 4 linea verticale open load ecco credo a questo punto che il download sia completato pertanto andiamo sul nostro finder 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 scrivania scrivania vuoto cartella inizio inizio paolo finestra vista colonna documenti download download elenco un elemento selezionato candy candy bgm le nostre anime di notte hd 2017 w e bdl 1080 pmp ecco questo è il nostro film andiamo a vedere quanto pesa la durata del film e tutto quanto command i ottieni informazioni info sulle nostre anime di notte hd 2017 boh precia letra le nostre anime di notte hd 2,43 gigabyte 2,43 gigabyte pesa bene avanti modificato oggi 16 e 22 editor tag post generali espanso generali tipo mpeg 4 file dimensioni 2 miliardi 432 situato in met ssd piccolo triangolo creato martedì 24 gennaio modificato oggi set usa come modello protetto ulteriori informazioni ulteriori informazioni provenienza https dimensioni 1920 volte codec h 264 durata 1 ora 43 minuti 17 secondi durata un'ora e 43 minuti dura il film bene dai nome ed estensione ok dai allora il film c'è tutto chiudiamo command w chiudi finestra elenco un elemento selezionato le nostre anime di notte a questo punto se io attivo il comando command frecciaggiù tramite lettore vlc parte la riproduzione del film e credo che farò una bella sorpresa a mia moglie paola e gli avrò fatto risparmiare anche il prezzo del biglietto del cinema bene hai da dire qualcos'altro leo prima di salutare i nostri amici sì una comunicazione di servizio per ora c'è un piccolo problema sul programma nel caso in cui noi volessimo fermare un download mettendolo in pausa e facendo il command shift k al momento non è possibile perché c'è un errore che lo sviluppatore provvederà a correggere nel prossimo aggiornamento questo errore però è aggirabile cliccando sul pulsante stop all'interno della tabella bene detto tutto quanto come abbiamo visto anche in questa modalità di estrazione guidata il programma è semplicissimo e accessibilissimo per cui difficoltà zero su tutti i fronti efficacia massima bene a tutti buon divertimento e buon download ciao 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 Grazie a tutti